La prova è tutto a posto, un po' di leggera nebbia, è molto scivolosa la strada, è proprio zero grip, però tutto a posto, forse un po' troppo presto che c'è poco pubblico, meglio così almeno non ci saranno problemi di fermare la prova, non penso proprio oggi. Però per il resto tutto bene, il tempo sembra che dai tempi abbiamo vinto la prova, quindi con un R5 siamo contenti davanti alle Vore C. Sì, ma bene, prima prova da guardare perché sai si scivola parecchio, non piove tanto, quindi è bagnata, è strana, ma va bene, no nebbia no, non ho trovato niente, tutto a posto, siamo andati noi penso piano nel senso che non volevamo prendere troppi rischi. Direi che è andata proprio bene, nel senso che per essere la prima volta che salgo su questa macchina sono proprio contento, ci sono degli errori di gioventù che ho fatto io dovuto all'inesperienza sulla macchina, però direi molto bene. Tempo? Tempo nuvoloso, tendente alla pioggia, no, il tempo la strada umida, bagnata come si prevedeva, vedremo nel susseguirsi dalla giornata se cambiano le condizioni e valuteremo il da farsi. Bellissimo la Selvino, esordio per me in VRC, esordio per la DPO Autosport con Focus VRC appena arrivata, è stata una cosa bellissima, incredibile, siamo un po' distanti dai primi, non troppo per essere alla prima prova, molto bene, molto bene, Selvino sempre bella. Peccato che abbiamo un problema in freno a mano, abbiamo perso parecchi secondi nei primi 4-5 tornanti, vediamo di metterlo a posto e risolvere il problema e andare insieme agli altri, comunque non siamo lontanissimi. La prova l'abbiamo trovata molto scivolosa, abbiamo problemi con le regolazioni della macchina riguardanti l'assetto, infatti anche la macchina tendeva a partire, quindi non era molto stabile, sicuramente se la macchina era a posto di assetto avrebbe fatto un tempo molto più buono di quello che abbiamo fatto, comunque siamo abbastanza soddisfatti. Dopo la prima prova abbiamo fatto il secondo tempo di Super 2000, cerchiamo di fare qualcosa di meglio nel prossimo giro, montiamo gomme nuove perché abbiamo capito che con queste purtroppo il tempo non esce e vediamo, cerchiamo di migliorare. La strada è molto scivolosa, i tornanti sono viscidi, si perde tanto tempo con la motricità, di conseguenza bisogna modificare assetto e gomme nuove e via, attacco. Ciao. Grazie.